Ronaldo sono entrambi testimonial e allora è un confronto con in campo veramente alcune delle più grandi stelle del caccio mondiale degli ultimi anni, come vedete anche a livello arbitrale c'è Pierluigi Collina che torna ad arbitrare una partita. La squadra è stata disputata negli ultimi anni a Dusseldorf, Madrid, Marsiglia, Malaga, Fes, Lisbona, Atene e Hamburgo in passato, più volte è capitato che una squadra di brasiliano Carlos Alberto Parrera, ma sia Parrera che Felipe Scolari, l'altro allenatore, quello che avrebbe dovuto guidare la selezione di Zidane, sono stati fermati dal maltempo. Giannino Paulista, Romario, Darley, Amaral, William, Lucas, Leandro 18 a 103 kg perdendo quindi praticamente 15 nel giro di tre mesi degli avversari e allora adesso si riparte con il primo pallone giocato invece nella corsia centrale dove c'è Zico, il primo tocco di palla di Zico viene salutato con un grandissimo applauso dal pubblico presente. E' quello qui Neymar, solo davanti al portiere si fa ipnotizio per la squadra di Ronaldo, avete visto inquadrato proprio un pallone poco prima della metà campo e innesca l'azione della squadra di Ronaldo, ancora una volta c'è Neymar che appoggia proprio alla palla giocata da Emerson sulla tre quarti. Per la squadra di Ronaldo è quello che ha servito il fenomeno che è Zico e le carte, il colpo di tacco di Zico, l'azione prosegue ancora con Neymar, Capone, era di rigore, certo passo per la conclusione, niente male. E' elegantissimo il colpo di tacco di Zico, poi l'azione che prosegue con Ronaldo, Neymar e Cafu che conclude. La palla termina sul fondo, lì nella zona dell'operazione c'era Antaquattro, limite dell'aria, il tocco è per la conclusione da parte di Ronaldo che termina sul fondo. Primo tiro in porta del fenomeno con il mancino, niente da fare per Ronaldo, come dicevamo prima impegnato negli ultimi mesi in questa cura dimagrante forzata come protagonista di questo reality show. La cura che l'ha portata però risultati piuttosto buoni, visto che dai 118 kg appoggia all'indietro, la combinazione è per Ronaldo che tocca in area di rigore verso Neymar, Neymar vuole calciare Vittor Baiano. Nonostante la deco di Neymar per Zico, da Zico per Ronaldo, lo scatto di Cafu che riceve area di rigore e Cafu contro Montero si ferma, appoggia per Bebeto, da Bebeto per Ronaldo. Ronaldo calcia con il sinistro, palla rispinta dalla difesa che nel sondida, mentre Ronaldo aspetta Barcellona e una Champions anche con i catalani. per poi decidere di andare a chiudere la sua carriera ancora in Brasile con la maglia del Fluminense, crampalla in area di rigore per Neymar. La posizione è regolare, Neymar vuole fare segnare Bebeto, ed è Bebeto che realizza il primo gol della partita sull'assist di Neymar, 1-0. Per la squadra di Ronaldo, assegno, va all'attaccante classe 1964 che adesso fa il politico, è stato eletto nell'assemblea di Rio de Janeiro nel partito democratico. Rivediamo, Neymar tocca per Bebeto e lascia segnare il campione del mondo 1994 che ha chiuso la sua carriera ormai da diversi anni. Ultima esperienza, quella in Catara con la maglia dell'Aiti. Tuttora parte della diritto in area di rigore. Eccolo qui Ronaldo che riceve l'appoggio proprio di Neymar, deve litreggiare perché c'è su di lui a marcar. Per Neymar, palla buona per Ronaldo a limitare l'aria, prova a passare, Ronaldo ha cercato un tunnel. Anche compagni per partecipare all'azione, serve Ronaldo. Da Ronaldo il pallone per la gara di ritorno perché a causa di alcune presunte minacce, qui intanto si chiude la prima frazione di giottesimo da Bebeto, ovviamente ritmi bassi ma non poteva essere altrimenti. Ma non sono mancate le giocate di classe da parte di Ronaldo ma soprattutto di Zidane in questa prima frazione di gioco. Ci fermiamo per qua, sarà parte della squadra anche per il secondo tempo. Vediamo, Ronaldo per adesso sta facendo un suo ritorno in campo, possibile che ancora provi a stringere i denti e restare sul terreno di gioco per qualche minuto prima di abbandonare la partita. Come di vedere quindi Ronaldo in campo va a parlare con l'arbitro Pierluigi, c'è ancora anche Neymar al fianco del fenomeno. Ricordiamo che in pachina avrebbero dovuto esserci da una parte Luis Felipe Scolari, dall'altra Carlos Alberto Perrera. Ma i due CT, uno attuale, uno ex del Brasile, non sono arrivati in tempo a Porto Alegre a causa del maltempo che li ha bloccati a Rio de Janeiro e qui vediamo ovviamente clima. Pischietto bolognese, unico italiano presente a questa partita. Si era parlato nei giorni scorsi di una possibile presenza di Cristian Vieri fra... Ricordiamo quelli che sono i giocatori a disposizione in panchina dei due allenatori. per la squadra di Ronaldo non si sono ancora visti in campo. Rever, Gianmini, Agiligno, Paolo in Fadolatrada. Eccolo qui Leandro Damiao. Ovviamente gioca nella sua posizione di centravanti. in fianco di Neymar e adesso finisce la partita di Ronaldo che evidentemente è rientrato in campo per dare al pubblico, a pubblico la possibilità di tributarli questa ovazione. Dopo un paio di minuti nel corso del secondo tempo esce Ronaldo frenato dall'infortunio muscolare. Durata circa 48 minuti. Anche ex-Gremio. Eccoli qui i due artempici di questa partita. Zidane e Ronaldo. Per Ronaldo la gara è durata poco più. La squadra di Ronaldo. Allora il pubblico può sfogarsi ancora di più contro il fuoriclasse dell'internazionano. O meno Ronaldo. Eccolo qui.